Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele, bentornati sul canale di Progetto. Quest'oggi andremo a vedere come funziona l'aritmetica dei puntatori e successivamente andremo a vedere come si gestisce la memoria. Per quanto riguarda l'aritmetica dei puntatori, consideriamo la variabile int a, ad esempio, uguale a 4. Un puntatore ad a sarà dato da int pa, con l'asterisco che lo precede, che è uguale a end a, e questo l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. In questo caso, pa è un puntatore a una variabile di tipo int. Proviamo a scrivere pa uguale a pa più 4. Ora mettiamo un breakpoint qui, così vedremo lo stato di pa, e un altro qui. E andiamo ad eseguire. Ora qui vediamo che pa, ovviamente, contiene l'indirizzo della variabile a. Questo perché gliel'abbiamo assegnato proprio qui. Se noi clicchiamo su continua, vedete che pa viene incrementato. Quindi vediamo che se andiamo a sommare un intero a pa, non stiamo cambiando, ovviamente, il valore interno da, ma semplicemente modifichiamo l'indirizzo al quale stiamo puntando. Ora vediamo che qui l'indirizzo di prima era questo numero lungo, che terminava con 24. Vedete che quando siamo andati a sommare 4 all'indirizzo, non siamo finiti, ad esempio, nella cella 28, ma siamo finiti nella cella 34. Perché è questo? Perché in sostanza in C esiste l'aritmetica dei puntatori. Gli operatori più e meno, quando applicati tra un puntatore e un'espressione di tipo intero, hanno un comportamento diverso da quello che hanno normalmente in espressioni di tipo aritmetico. Ora diamo un significato generale a questo comportamento. Quindi, data la variabile pa con un qualsiasi tipo a sinistra, sono valide le espressioni pa più espressione intera, quindi espressione intera, e pa meno espressione intera. Immagino che abbiate capito che questo non è codice C, ma semplicemente è una spiegazione, e quindi possiamo metterla anche nei commenti. Queste due espressioni, rispettivamente, aggiungono, sottraggono implicitamente al valore del puntatore il valore di dimensione del tipo, quindi dimensione dell'int, dimensione del float, quello che avete messo qui a sinistra ha una dimensione, e questa dimensione viene moltiplicata per l'espressione intera qui a destra. Il tipo di queste espressioni sarà sempre di tipo puntatore, quindi se avevamo un float puntatore, anche questa somma sarà di tipo float puntatore, ad esempio. Quindi potranno essere assegnate solamente a variabili di tipo puntatore a tipo. Esiste anche un altro tipo di espressione valida, la sottrazione tra due puntatori dello stesso tipo. Quindi se io avessi avuto qui anche, ad esempio, mettiamo B uguale a 9, no? E puntatore PB uguale a AND B. Allora io in questo caso, magari questo lo togliamo e lo mettiamo qui, se volete tenerlo ben in vista, possiamo anche scrivere, aggiungiamo una variabile per comodità, PC, e ora scriviamo che PC è uguale a PB meno PA. E questa operazione qui ovviamente è valida. L'unica cosa è che in realtà PC, invece di essere puntatore a intero, dovrebbe essere un puntatore del tipo ptrdif underscore t. L'unica cosa è che ci dà errore perché, come vi ho detto nella lezione sulle librerie, quando lavoriamo con i puntatori dobbiamo includere stdlib. Vedete che ora anche questa espressione ha un senso. Quindi il risultato è memorizzato in una variabile di tipo ptrdif t, un tipo intero, con segno, definito nella standard library del C, in particolare lo trovate in stdlib, che serve proprio a rappresentare il risultato di differenze tra puntatori. In questo caso il valore sarà memorizzato in PC e questo valore sarà valore di PA meno valore PB fratto dimensione del tipo. Magari questo lo mettiamo tra i commenti e lo andiamo ad inserire qui. Sostanzialmente questo serve per ottenere la distanza tra due puntatori in numero di elementi e non in char, quindi di solito byte. Ora vediamo come chiedere memoria alla standard library. Quindi come facciamo a definire più variabili dello stesso tipo? Una possibile soluzione è quella di chiedere alla libreria standard di fornirci lo spazio necessario. Questo è chiamato allocazione di memoria. A runtime, cioè quando il programma viene eseguito, è possibile chiedere alla standard library di allocare una certa quantità di memoria, utilizzando la funzione malloc e ovviamente questa funzione si trova sempre in stdlib. Questa funzione è una funzione del tipo extern void asterisco malloc size t di size e questa è l'espressione della malloc. Analizziamola. Allora, il parametro size della malloc deve contenere il numero di byte, byte oppure char, che si vogliono allocare. La funzione ritorna un puntatore al primo byte della zona di memoria che è stata appena riservata o null in caso di errore. E attenzione perché la memoria appena allocata non è inizializzata e quindi conterrà valori a caso. Ora notiamo che la funzione malloc è un puntatore a void. Che cosa significa questo? Un puntatore a void indica un puntatore senza un tipo associato, ovvero un indirizzo a cui manca l'informazione sul tipo di dato a cui si sta puntando. Questo è un puntatore speciale, nel senso che non è direttamente utilizzabile, quindi non si può dereferenziare, ovvero quanti byte grande il dato puntato, in questo caso non lo sappiamo. L'aritmetica dei puntatori non è ammessa su di esso, perché di quanto incremento se non so quanto è grande questo dato. Quindi, come posso fare a utilizzarlo per accedere alla memoria appena allocata? Prima di poter essere utilizzato, deve essere convertito in un puntatore a un tipo specifico, per forza. Quindi in C, un puntatore a void può essere assegnato a qualsiasi puntatore, e viceversa. Qualsiasi puntatore può essere assegnato ad una variabile di tipo void, puntatore ovviamente. Quindi un puntatore posso assegnarlo a una variabile di questo tipo. La conversione avviene implicitamente quando un puntatore a void viene assegnato a un puntatore di un altro tipo. Ad esempio, ora andiamo qui sotto, qui invece di PC scriviamo N, dato che questa è una lunghezza, e scriviamo void asterisco vp uguale a malloc di 12 int asterisco ip uguale a vp. Questa è un'operazione che possiamo andare a svolgere. Ma questa, dall'analisi matematica, dalla parte più banale dell'analisi matematica, notate che possiamo applicare la proprietà transitiva, nel senso che ip uguale a vp e vp uguale a malloc, allora ip è uguale a malloc. E quindi possiamo scrivere direttamente questo qui, qui. Ora, per convertire questo puntatore a void, perché l'abbiamo detto qui che è un puntatore a void, in puntatore intero, il cast può essere sia implicito, però è meglio fare un'operazione del genere che si chiama casting esplicito. Quindi int asterisco malloc 12. Questo int asterisco farà un casting implicito alla malloc per trasformarla in una funzione che restituisce un intero, mettiamola così. In ogni caso non sarebbe mai necessario, però all'inizio può essere utile per essere certi di cosa restituisce questa funzione. Soprattutto se voi avete già un puntatore, quindi ad esempio avete già pb, se andate giù e volete scrivere pb è uguale a malloc di 20, dovete scorrervi tutto il codice e andare a vedere di che tipo era pb. E ogni volta che rileggete il codice dovete andare a riguardare, in sostanza. Quindi diciamo che in questo caso può essere conveniente mettere un casting implicito per dire questo qui mi fa il casting a intero, quindi pb per forza un intero. La malloc utilizza void come tipo di ritorno perché deve essere in grado di allocare memoria per qualsiasi tipo di dato. L'unica cosa che deve sapere per allocare memoria è il numero di byte necessari a contenere un certo tipo di dato. Ora copiamo e incolliamo questo qui, che ora utilizziamo questo. Abbiamo visto che possiamo allocare un po' di spazio per alcuni interi. Ma quanti int si possono mettere in 12 byte? Oppure quanti byte ci servono per contenere un migliaio di interi? È meglio lasciare che questi calcoli li faccia il compilatore per noi, sfruttando l'operatore sizeoff. Quindi andiamo a trasformare questa espressione. Andiamo a scrivere che io voglio 12 puntatori e per inserire 12 puntatori dobbiamo dargli anche la dimensione dei puntatori. Basta scrivere sizeoffint. In questo modo a sinistra non abbiamo più una dimensione, ma abbiamo il numero dei puntatori che vogliamo inserire nella nostra malloc. E a destra abbiamo la dimensione della variabile intera. Ovviamente questo restituirà 4, però è meglio lasciare fare il calcolo al compilatore. Vedete che in questo caso evitiamo lo sforzo di fare i conti e non è necessario specificare la dimensione che ha un int. E' anche possibile, ma non sempre chiaro, scrivere 12 per sizeoff di asterisco IP. In questo modo il risultato è analogo, quindi uguale. E se cambiamo il tipo di IP non dobbiamo cambiare il tipo all'interno della malloc. Ora vediamo un ultimo aspetto della gestione della memoria. Molto importante che tanti quando programmano si dimenticano ed è la liberazione della memoria che non si utilizza più. La memoria che viene allocata, in questo modo, deve essere liberata quando non serve più. Perché se noi usiamo la malloc non viene svolta in automatico questa operazione. Questo viene fatto chiamando la funzione free. Quindi la funzione free è una funzione del tipo void free che prende un puntatore a void asterisco PTR. Questa è la funzione free, che ovviamente non dovete andare a scrivere, cioè io ve le ho messe qui tutte per esempio, ma queste non dovete scriverle, mi raccomando. La funzione free comunica alla libreria standard che la memoria puntata da PTR è da deallocare. Se PTR è null, la funzione free non fa nulla, altrimenti libera la memoria. Bisogna fare molta attenzione a non utilizzare più puntatori la cui memoria puntata è stata liberata con una free. L'accesso alla memoria puntata da un puntatore dopo che esso è stato passato alla free genera un undefined behavior. Quindi se io faccio free e gli passo i P, poi scrivo i P più uguale a 3, andiamo a vedere appunto che genera un errore. Eseguiamo. Un puntatore che non si riferisce più a un indirizzo valido è detto Dungling Pointer, in italiano puntatore penzolante, ma nessuno lo chiama così ovviamente. Meglio chiamarlo Dungling Pointer. Un undefined behavior viene generato anche in altri due casi. Quando alla free viene passato un puntatore che è già stato liberato in precedenza, quindi se io scrivo ad esempio free di IP e poi di nuovo free di IP, questo qui, bisogna che vada a commentare queste scritture perché altrimenti vanno a sovrascrivere ciò che c'è scritto nelle librerie, vedete che ovviamente si è generata un'eccezione, è un errore. E andiamo a vedere nello stack, c'è scritto Invalid Address Specified to RTL Validation Hip. Ovviamente è come se io avessi eliminato questo oggetto e gli chiedo di andare ad eliminarlo di nuovo, cioè non ha senso. Oppure un altro errore è quando alla free viene passato un puntatore che non si riferisce a un'area di memoria allocata dinamicamente in precedenza. Quindi quando si utilizza memoria allocata dinamicamente è molto importante ricordarsi di liberarla. Quando non è più necessaria, altrimenti si può incorrere in un memory leak. Andiamo a considerare la seguente funzione. Scriviamo int f e gli passiamo void. Scriviamo int asterisco p è uguale a malloc di 1000 per sizeof int e poi return di p. In questo caso i 4000 byte allocati non vengono liberati e quando la funzione ritorna al chiamante la memoria che conteneva il puntatore p, questa viene liberata e con essa anche ogni possibilità di poter puntare nuovamente a quei 4000 byte. Ogni riferimento ad essi è perso per sempre, quindi non posso nemmeno farne la free. Se immaginiamo che la funzione f venga chiamata 100.000 volte, durante l'esecuzione del programma finiremo per avere 400 milioni di byte, che sono circa 400 megabit, cioè 400 megabyte. Tra megabit e megabyte c'è una grossa differenza. allocati per il nostro programma senza avere più la possibilità di liberarli. Quindi ragazzi spero che abbiate trovato utile il video di oggi, mi raccomando lasciateci un like, scriveteci qui sotto nei commenti se qualcosa non va, seguiteci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati, ma soprattutto iscrivetevi al canale e vi può tornare utile attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!